Più sport, musica, laboratori di lingue, teatro, innovazione digitale. Oltre un milione di ore di attività aggiuntive da svolgere in orario extrascolastico di pomeriggio nei mesi estivi. E' il risultato finale del bando La Scuola al Centro, lanciato lo scorso autunno per favorire il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole, contrastare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione sociale. Dopo la sperimentazione dell'apertura straordinaria estiva nel 2016, in quattro città, Milano, Roma, Napoli e Palermo, a gennaio il Ministero all'Istruzione ha lanciato un piano di dieci azioni attraverso una serie di bandi che consentiranno di qualificare ulteriormente l'offerta formativa per una scuola sempre più aperta, anche in orari diversi da quelli abituali. Competenze di base, educazione motori e sport sono le aree tematiche più scelte per i progetti presentati insieme a teatro, arte, scrittura creativa, potenziamento della lingua straniera, innovazione didattica e digitale, musica. Le scuole finanziate in tutta Italia sono 4.633, in Molise i progetti finanziati per le scuole del primo e secondo ciclo sono 36, con risorse poco al di sotto di un milione e mezzo di euro. È un'ottima notizia per le nostre scuole, ha commentato il direttore dell'ufficio scolastico del Molise, Anna Paola Sabatini, perché queste risorse contribuiranno ad accrescere l'offerta formativa in questi 36 istituti molisani. L'obiettivo è trasformare la nostra scuola sempre più in una scuola di comunità, avvicinandoci alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio.